Allora, ho riacceso la registrazione Devo condividere il desktop Vediamo ancora l'applicazione di prima Ok, quindi stiamo registrando Adesso passiamo, diciamo, alla prossima ora in mezza scarsa A cercare di fare funzionare la nostra applicazione del React Scores Quindi quella che abbiamo portato avanti nelle scorse settimane a lezione Con l'interazione con il server Quindi io vi ho già messo a disposizione nella stessa cartella WIC11 Il React Scores che in realtà è la versione esattamente Uguale a quella alla quale ci siamo lasciati C'è solo un file API che ho inserito Che è un modulo che ci serve a comunicare con il server Per non doverci mettere lì a scrivere troppo codici Ma quando c'è bisogno eventualmente lo commentiamo Ma il resto dovrebbe essere uguale identico Quindi fondamentalmente sta ancora lavorando Con i fake exams, fake courses Quindi tutto quanto finto Proviamo giusto che funzioni Così intanto la apro Verifico che vada tutto Eccetera Quindi allora Ho bisogno di aprire il mio server Ah ecco no In realtà ho fatto anche una piccola modifica al server Quindi Che di nuovo React Scores server Che avete sul Sul git Al di fuori Quello comune a tutti i corsi Ecco Ho inserito Solo dei piccoli set timeout Su alcune API Quindi questo stiamo parlando del server web Set timeout 1000 Quindi un secondo Sulla risposta della Get API exams Non sul courses Non proprio su tutti Ma su alcuni Quindi sulla delete 2000 Sulla Put Quindi l'aggiornamento 2000 Eccetera Giusto per avere il tempo Di vedere che cosa succede Per esempio Su loading Sull'aggiornamento E così via Perché altrimenti Succede tutto Totalmente velocemente Visto che siamo in locale C'è tanta banda Perché è locale al computer E non c'è un ritardo Da parte delle server Che non ci accorgeremo Neanche di cosa succede Però per prima cosa Cerchiamo di far funzionare L'applicazione Normalmente Quindi Passo numero uno Carichiamo i dati Passo numero due Cerchiamo di far funzionare Bene le altre funzionalità Aggiunta Cancellazione E aggiornamento Volevo farvi vedere L'applicazione Funzionale Quindi apriamo Il terminale E facciamo Npm start Io ho già fatto l'install No Ahia Ah no Sì Npm start Eh sì ma devo entrare in No React scores Cosa c'è che non va No Allora non ho fatto un install Ho detto sbagliato Non manca infatti la cartella Package Node modules Cioè il package Scusate Pensavo di averlo fatto ma c'è un po' di versione in giro Va bene Quindi Dobbiamo Ragionare Su Che cosa fare No Allora Passo numero uno è Dove teniamo l'informazione No Ah sì Dove teniamo l'informazione Quindi L'informazione di livello applicativo Quindi I dati della nostra applicazione Abbiamo detto Vabbè Dovremmo fare un po' di ragionamenti Su come abbiamo organizzato i componenti Eccetera Diciamo che alla fine di questi ragionamenti Spesso si finisce per Avere lo stato in app No Che è il componente di livello più elevato Perché? Perché così è accessibile a tutti No E in effetti Noi avevamo fatto esattamente così No Se voi andate a vedere il codice Mentre Intanto Fa questo install Exams Era lo stato In app Che ci manteneva la lista degli esami Questo Rimane L'unica cosa Che non vogliamo più inizializzarlo Con i fake exams Che è un array Dentro il nostro codice javascript Piano piano arriverà Così Ripassiamo come è fatta l'applicazione E poi E poi abbiamo Tre funzioni da modificare Fondamentalmente Delete Add Update No Niente di così Eccezionale Npm Start Però vogliamo capire Mentre facciamo le cose Perché potremmo anche Farvi il commit E la soluzione E finisce lì Però Se non proviamo a ragionare insieme Sui vantaggi e svantaggi Di fare in un modo o nell'altro Serve ben a poco Adesso giusto per rinfrescarvi la memoria Su come funziona l'applicazione Piano piano Ce la caricherà Ok Ok Arriva Io vi tengo anche il tab network sotto Giusto così Per farvi vedere che in questa non succede niente Nel senso che Cancelliamo Aggiorniamo Adesso Aggiungiamo Diciamo tutto Non succede niente Non sta comunicando col server È tutto nella memoria E nello stato dei componenti Quindi per carità Questo è vero Nel senso che Però C'è In app C'è il nostro stato Che è il nostro array Degli esami Ok Ok Tra l'altro ho capito anche forse adesso Giusto che abbiamo parlato di hooks Perché non hanno il nome Gli hooks Per dire cosa c'è dentro lo stato Va bene Dall'ordine in cui avete chiamato la use state Quindi Cerchiamo di farla funzionare Quindi Numero uno Vogliamo Caricare i dati Dal server No? Come facciamo Abbiamo le slide No? Era la parte più facile No? Raid rating at mount time Use effect Con una callback Che Carica i dati Dal server Dipendenza Array vuoto Quindi viene eseguito Solo una volta il mount E abbiamo sostanzialmente Risolto il nostro problema Quindi Andiamo a implementarcela Se qualcuno ha altre idee Mi raccomando Scrivete su slack Perché le valutiamo insieme Quindi Allora Set exam Use state Vuoto all'inizio Perché 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 i fake exams Rifacciamo sparire Quindi Facciamo pure sparire Fake exams Via E E E E quindi E quindi Andiamo a Fondamentalmente A scriverci una use effect No? Use effect Una callback No? Andiamo a capo Che tanto scriviamo Tanto codice Virgola Aperta Chiusa Quadra Qui dentro Carichiamo Dei dati All'avvio No? Dunque Qui in realtà Ne abbiamo Due set Di dati Perché noi vogliamo Caricare anche I courses Cominciamo a caricare Uno Cominciamo a caricare I courses Ok? Quindi Facciamo Ecco Qui vi dicevo Ho fatto l'API Nel senso che Ho messo tutto da parte In funzioni Che sono funzioni Async Che fondamentalmente Fanno una fetch Degli url Corrispondenti Quindi Abbiamo un API Courses Se non metto niente Fa una get Prendo la risposta Json E La risposta Se va tutto bene Me la faccio ritornare Come un array Cosa fa questo Course from Course E' semplicemente Un oggetto Models In cui ho messo Tre campi Course code Name Cfu Cosa fa? Niente Io gli passo L'oggetto E lui Mi Ok Mi fa Il Un nuovo course Diciamo Questa non è una cosa Fondamentale Nel senso che Metodo statico Non è una cosa Fondamentale Se io voglio Lavorare Con degli oggetti Come facendo finto Che Che ho Delle istanze Di oggetti Vabbè Faccio così Se no Se no mi tengo I miei oggetti Javascript Che non hanno Quindi un prototype La differenza Tra questi Quelli normali Oggetti javascript Solo che hanno Un prototype E quindi se io Mettessi Dei metodi Posso averli Già a disposizione Sull'oggetto Ma È tutto qui La differenza Questa è una scelta vostra Dovete un po' Vedere come vi piace Programmare Però in javascript Visto che appunto Non esistono Le classi Vere e proprie Sono semplicemente Una maniera Per fare Dei prototipi Di oggetti Quindi distanze Vedete un attimo Voi Qui è stato fatto così L'abbiamo fatto così Lo teniamo E quindi Ci arriva un json Ci arrivano degli oggetti E li creiamo Come Con un prototype course E quindi abbiamo fatto Un metodo Che sostanzialmente Fa una new di course E poi gli setta i campi Ok Va bene Quindi abbiamo Get all courses Che possiamo Semplicemente andare A chiamare Quindi app E abbiamo La Get Adesso me lo incollo Perché sennò Mi dimentico No Cosa fa Get all courses Non ha parametri La dobbiamo andare A chiamare L'abbiamo racchiusa In api Adesso Non so se è importato Forse Dobbiamo importarlo Quindi import Api From Quindi Api No Scrive Bar Api Api In fondo Ha un export No Quindi export Ifolt Api E che A cui ho assegnato Tutto quanto Quindi così Mi faccio un import Solo E faccio prima Ma niente di particolare Questa roba dovrebbe essere Abbastanza Standard Quindi Api Get all courses E Prendiamo il risultato No Const Dunque fatemi Solo mettere Come abbiamo Già Courses E poi E poi Dove lo metto In realtà Prima non Prima c'era Il fake courses E se non c'era Uno stato courses Devo tenerlo come stato O no E questa è una scelta Che dipende da voi Diciamo che i dati Dell'applicazione Caricati dal server Fondamentalmente Sono sempre uno stato Perché è qualcosa Che devo mantenere Memorizzato nell'applicazione Eventualmente Ricaricare E quindi Prima ci andava bene Perché Perché tanto era tutto finto No E quindi Che fosse un array O fosse uno stato Ci cambiava poco Perché i corsi Non li modifichiamo Gli exam Dovevano essere uno stato Perché se no Non potevamo fare La set exam Quando aggiungevamo Cancellavamo O aggiornavamo I corsi Non ci interessavano Però Dobbiamo Per poterli Ricordare Diciamo Successivamente Vedete no Non sappiamo dove metterli Farli diventare uno stato Quindi Mi raccomando Scrivete sempre Stesso nome di variabile Perché se no Non si capisce più niente Quindi se chiamate Corsis Questo Set courses Use state E Allora iniziale Anche questo è vuoto Un array vuoto Non mettiamo null Eccetera Mi raccomando Mettete un qualcosa Che abbia senso Dello stesso tipo Non perché sia vietato Ma perché Diciamo Per Per semplicità Se Un array vuoto Un array pieno Che io chiami una map O no O una For each Eccetera Funziona anche Sull'array vuoto Se io invece Ci ho messo Un undefined Null Eccetera Poi mi incricca il codice Devo riempirlo di ifa Per gestire questi casi E Non mi piace Al più Diciamo che all'inizio La tabella resta vuota Se Gli array sono vuoti No Ma dovrebbe funzionare Il codice Senza incriccarsi Ok Quindi Ho messo su Ditto Quindi Mi esce fuori Questa faccina Ok Diciamo Costcourses API Get all courses In realtà Una funzione Async No L'abbiamo visto prima È una funzione Async Quindi io O faccio Punto den O Come ho scritto Nel codice Prendo il valore Però La chiamo con la wait No E allora Sapete che Dobbiamo Inserire In una funzione Async No Quindi Cost Diciamo Get Corses Uguale Async Async Perché non possiamo Chiamare Cioè mettere la wait In una funzione Che non sia async Async Freccia Quindi Aggiustiamo Ok A questo punto Diventa una definizione Una funzione Non una chiamata Perché Questo è dentro Una funzione Che è stata appena Definita E allora La devo chiamare Get Ah Cos'ho fatto Get Corses Ok Quindi Quando la use effect Perché non me la segno Ah ecco Si ci vale un po' di tempo Quando la use effect Deciderà Di usare Di chiamare La sua callback La callback Definirà una funzione Async Con dentro a wait E la chiama Ok Bene Quindi di per sé Dovremmo essere in grado Di caricare I corsi Ok Proviamo a salvare Use effect Is not defined Ah Dovemmo importarlo Va bene Use effect Ok Set courses Is assigned a value Dunque Allora Vabbè Non ho usato Eccetera eccetera Proxy error Devo far partire Il server Mi raccomando Ci deve essere Anche il server Che gira Per far funzionare Adesso che abbiamo Il server Node server Cos'ha Anche qui Non l'avevo fatto Vabbè L'avrò fatto In qualche altra Cartella Questo del server È molto più veloce Carica express E poche cose Ha poche altre cose Ok Facciamo partire Il server Si diciamo Il fatto che Sto facendo La cattura Lo schermo Lo streaming E tutto Non è che aiuta Essere rapidi Ok Facciamo partire Il server Quindi node server E poi lo lasciamo lì Il server Non dovremmo più toccarlo Fatto partire La prima volta Allora Ricarichiamo La nostra applicazione Ok Corsis Però C'è No C'è qualcosa Che non è andato Sulla Corsis Così intanto Facciamo un po' Di debattere Dunque È arrivato Quindi la richiesta In rete È partita Ed è arrivata E allora Perché non mi ha fatto Ah Perché forse Non l'ho settato Non ne ho fatto niente Nel senso Devo fare Set Corsis Di Corsis No Quindi metterlo Nello stato Ok Quindi Ricompilo Va bene Corsis Non è usata Quindi Diciamo Di nuovo Non si vedrà nulla Però Corsis Ha La sua risposta E I componenti A questo punto In app Nel secondo U di stato Ci trova i corsi Ho caricato All'avvio Ok Quindi Sto facendo Pezzetto per pezzetto Perché Se no Incolliamo tutto il codice Boh Non vediamo funzionare Poi ve lo studiate Se avete dei dubbi E vorreste fare diversamente Ditelo E Ci ragioniamo sopra Ok Ho caricato i corsi Adesso carico gli esami Così Finalmente Sono in grado Di Di Mostrare qualcosa Fake courses Lo butto via Da qualche parte Ci sarà Fake courses Mi sa Vediamo un po' Se c'è Fake courses Sì Quindi qui Dove c'era fake courses Adesso ho lo stato Con i corsi veri E quindi Lo aggiusto Quindi Non c'è più ragione Che ci siano I fake courses Ci sono quelli veri Ok Quindi salvo Ok Non ce ne sono più Va bene C'è un IJS Interessa Carico gli esami Come faccio a caricare gli esami Use effect Posso scrivere quante ne voglio Ne posso scrivere quante ne voglio Quindi Solita sintassi Virgola Per ora Diciamo che facciamo così Ok Use effect Diciamo Scoppiazziamo un po' di codice Così Non Facciamo un po' prima Stesso sistema Cost Get exam Async Cost exam Await API Get all exams Set exams Cosa c'è che non va? Beh C'è che non va che Devo Devo Chiamare la Get exams Get exams Ok Questa è la prima soluzione Che mi è venuta in testa Ho fatto un altro use effect E carico anche gli esami Ok Proviamo Vediamo cosa succede Non è che bisogna per forza basarsi Sul fatto che funzioni o non funzioni Perché non è detto che Il fatto che vedete funzionare Vuol dire che l'applicazione sia fatta bene Però Diciamo Se non funziona Vuol dire che sicuramente c'è qualcosa Che non fa Ok Va bene Diciamo che In questo momento abbiamo caricato Gli uni gli altri E Ce li abbiamo nello stato Quindi è già un risultato Ehm Diciamo che Ehm Ehm Allora Per ora Diciamo che Ehm Ehm Dunque I due I due sono indipendenti No Ehm 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 Caricare Ricaricare Gli exams E non i corsi I corsi scaricati una volta Sono quelli I corsi del Politecnico Cambiano una volta all'anno Quando decidiamo di spegnere un corso Accendere uno nuovo Ma se no sono quelli Gli exams invece cambiano A seconda che ogni studente dia gli esami No Quindi Ehm Gli esami vanno modificati I corsi scaricati la prima volta Finito No Quindi di per sé questa è E' finita No Non ho niente da Da fare in aggiunta Qui invece vorrò poi lavorarci Perché? Perché questa è proprio La funzione Che voglio andare a richiamare Tutte le volte che vado a fare delle operazioni Aggiorna Cancella Aggiungi Eccetera No Quindi questa vorrei che fosse Sicuramente caricata all'inizio Ma Anche poi gestita con quella logica Con la quale abbiamo gestito Gli update nell'esempio No Quindi Avevamo Ecco Questa logica Che ci consentiva di fare L'aggiornamento In questo caso era un'aggiunta E poi La ricarica del server Ok Quindi Voglio arrivare a scrivere qualcosa di questo tipo In un'applicazione però un po' più realistica Un po' più complessa Ok Quindi Diciamo Qui abbiamo sistemato il caricamento iniziale Da cosa cominciamo? Cominciamo da Dalla cosa più semplice Che Diciamo l'add Proviamo l'add Che è la cosa più semplice Cioè in questo momento funziona Tutto quanto funziona Solo che non agisce sul server Cioè Noi possiamo aggiungere Non è che non possiamo aggiungere Io aggiungo tranquillamente Perché si è aggiunto Però Non è Non ha portato lo stato sul server Cioè lo stato sta solo nell'applicazione Io voglio che questo stato arrivi sul server E c'è la complicazione che dicevamo prima Cosa faccio nel frattempo? Optimistic update Aggiorno anche qui E spero che vada tutto bene Oppure Aspetto che il server abbia finito E poi Ricarico la lista O Cerco una soluzione intermedia Come abbiamo fatto sulle slide Cerchiamo di andare Verso la soluzione intermedia Però Numero uno Prima Prima cosa Facciamo l'aggiornamento sul server Senza questo Diciamo che non avete la sufficienza L'esame Nel senso che Non state facendo funzionare L'applicazione col server Poi Possiamo rifinire E far funzionare meglio Tutto il resto E però questo È fondamentale da fare Quindi L'add exam Ok Ha la sua set exams Che aggiunge alla lista Abbiamo visto che funziona Va bene Però Questa Add exams È quella che viene fuori A fronte del fatto Che io schiaccio Aggiungi Quando ho il form Quindi la passo Nei componenti E fondamentalmente L'ender dell'onclick Mi fa L'aggiunta Mi chiama questa funzione Quindi io ho la mia API In cui dovrebbe esserci Una add exam Sì Ok La quale ovviamente Vuole che cosa aggiungere No Exam Posso andarmela a vedere Voi ce l'avete Ve l'ho messa in anticipo Proprio per questo Add exam Alla quale passiamo Un exam E cosa fa Una fetch Di API Barra exams Post Content type application Json E poi Gli da il body Quindi Prenderà Dal parametro exams Il codice Lo score Eccetera Nel formato Che vuole il server Ok E poi E poi Vabbè Qui c'è un po' Di gestione Dell'errore Ma fondamentalmente Fa If response Ok Resolve null Cioè Ritorna Niente Ma con successo Cioè Ritorna Una promise Fulfilled E se c'è un problema Vabbè Farà reject Quindi fa Questi reject Va bene Quindi Eravamo qui API Add exam Ok E fondamentalmente Qui Boh Sì E' vero Potremmo fare un po' Di gestione Dell'errore No Però Fondamentalmente L'operazione col server L'abbiamo fatta No Quindi Io vi faccio vedere Salvo No Proviamo Quindi Ricarico L'applicazione Così Ok Ci mette un attimo Perché ho messo quel ritardo Sul server No Io Faccio l'operazione Faccio l'operazione Di add Aggiungo un altro esame No Save Mi viene immediatamente Aggiunto C'è la post La post La risposta Per fortuna mia Andata bene No 201 Vuol dire che è andato Tutto bene Eders Created No 201 Created Ok Però l'ho visto subito qui No Adesso non mi ricordo più cosa ho aggiunto Però l'ho subito visto Perché? Perché ho Ho fatto Diciamo Questo è l'optimistic update No Ho fatto subito la modifica Allo stato locale La tolgo Quindi faccio solo la modifica sul server Riproviamo Ok Quindi Ok Adesso c'è sul server Faccio ancora un'aggiunta Qui devo smettere Perché se no Bisogna che attacchiamo la cancellazione Non abbiamo più niente da aggiungere Ok Web application 1 30 Cancelliamo qui sotto così vedete Save No? Fatto la post E' andato sul server L'ha aggiunta E qui? E qui niente Perché qui Nessuno ha detto Di modificare lo stato Questo è il problema Abbiamo Prima lo modificavamo Ma con quella maniera Ottimistica No? Cioè Ok Facciamo che aggiungerlo Come facciamo? A fare in modo Di caricare L'informazione Dal server Perché a fronte Dell'aggiunta Poi dopo Voglio caricare L'informazione Dal server Allora qui si apre Si aprono le varie possibilità Che abbiamo visto Sulle slide Quindi Diciamo Cominciamo Dalla Cosa più semplice No? Io potrei Semplicemente Far così No? O faccio Vabbè Await Eccetera Consentitemi Di usare una volta Il den Sì Mettiamo qui Punto Den No? Den Mi faccio Un Dunque Cos'era API Get Quindi potrei Semplicemente Prendere questo codice No? E farlo chiamare Quindi un API Get All Exams No? API Get All Exams No? Punto Den E Prendere il risultato E ci faccio Set Exams No? Quindi E Freccia Set Exams E No? Ok No? Ho fatto tutto Qui non sto gestendo errori Non sto facendo niente No? Cioè dopo che hai fatto l'add Tu se tutto è successo Vai a fare un caricamento Dal server degli esami E mettilo E mettilo in set Exams Ok? Save Proviamo Quindi ricarico l'applicazione Ci ho un attimo Ok Quindi Ho solo più un esame Quindi devo implementare la cancellazione Vabbè Ok 30 Save Post Ok? E avete visto che c'è la get a questo punto Dopo che la post è finito E sono spuntati tutti e sette Da soli Ok? Questa è una possibilità È la maniera più semplice Di gestire la cosa Quindi Non scomodo la use effect Non Non Diciamo Agisco solo a fronte Di una risposta certa Dal server Il problema è Che Che L'utente non lo vedeva Finché il server non mi ha dato una risposta Ok? Quindi Quello che dicevamo sulle slide Il vostro collega scrive Potremmo anche aggiungerlo allo stato Senza ricaricarlo dal server È quello che abbiamo fatto prima Nel senso io questo l'ho commentato No? Era quello che avevamo fatto un attimo fa Cioè Set exams E poi E non c'era il den No? E per sé Se va tutto bene Sì Però Siamo nella condizione Della prima slide Optimistic update Nel senso che E se va male E se va male E se va male Devo poi tirarlo via Ok? E in più E in più Non ho dato un feedback all'utente Del fatto di cosa stava succedendo No? Qui Sono sicuro che lo aggiungo solo Se tutto è andato bene Però l'utente Di nuovo Non sa che cosa sta succedendo Ha dovuto aspettare Ok? Si intendo in seguito ad un check Che sia andato bene Sì Sì Ok Sì Allora Rispetto Se è tutto andato bene Sì Avrebbe potuto fare Nel den Set exams Old exam E va bene Avrebbe potuto prendere questo pezzo E metterlo nel den Qui Senza ricaricarlo dal server È vero Però Abbiamo il problema Dn client No? E allora avevamo detto Come regola generale Tutte le volte Che è possibile Che ha senso Andiamo a ricaricare dal server Così se qualcuno Ci ha fatto una modifica Questa modifica Viene visualizzata Ok? Però è vero Quello che dice il vostro collega Cioè io qui dentro il den Avrei potuto scrivere Il set exams Quindi Facciamo il ricarico dal server Perché ci piace Essere sempre Sincronizzati col server Se casomai Qualcuno ci avesse Messo un nuovo esame Diciamo Qualcuno ha dato l'esame A vostra insaputa Mettiamola così E avete preso Il voto Scherziamo un attimo Però Però se fosse La lista della spesa Siete in tre in casa E ognuno ci aggiunge le cose Questo ha Un senso Un po' più reale Quando c'è bisogno Uno aggiunge E l'altro però Non viene aggiornato Nella sua lista Fino a che non ricarica Dal server Ok Quindi questa è una possibilità Implementiamo la cancellazione Se no Non cancello Continuo ad avere Sti esami E non posso più aggiungere Niente Dunque Allora Questo è di nuovo La stessa faccenda di prima Nel senso è L'aggiornamento Dello stato locale Allora Prima di tutto Facciamo funzionare L'API Quindi se abbiamo usato L'approccio prudente Prima aggiunto sul server Poi fece un'intera lista Dobbiamo cambiarlo Se abbiamo usato Intende Tipo Per il laboratorio Per il laboratorio No Nel senso che Come avete visto Diciamo che Laboratorio Insomma Basta che le cose Funzionino abbastanza E anche L'attività Che state facendo Per imparare Quindi non è che Ci possiamo aspettare Che sia tutto perfetto No Non ci siano cose Completamente non funzionanti O Che non Non stanno Né in cielo Né in terra Questo sì Anche perché Se avete problemi Basta chiedere Per l'esame Vediamo un attimo Ne parliamo poi Con i colleghi Insomma Diciamo che Sicuramente La funzionalità minima Deve esserci Nel senso che Facciamo l'aggiornamento E poi ricarichiamo Dal server Questo sì Come andiamo a farlo Nel senso Se diamo feedback All'utente Come gestiamo gli errori Eccetera Questo Diciamo E' la parte Della valutazione Che magari vi porta Da un Voto molto buono A che ne so Un 30 lode Ecco Diciamo così Nel senso che Chiaro che se uno Mi ha fatto il minimo Tiene un po' difficile Dare 30 lode Va bene Ok Tutta l'applicazione Funziona Però Diciamo abbiamo visto Certe cose nel corso Delle best practice E uno prova a implementarle Visto che tutto il corso Tutto il corso Si basa sul progetto Sarebbe bene Provare almeno A implementare Alcune di queste best practice Che sono almeno Loading O qualcosa di questo tipo Però di per sé E' vero che Aggiornare Poi ricaricare dal server Tecnicamente Fa funzionare L'applicazione Quindi in teoria Se riuscissimo A dare un messaggio Di caricamento Tra l'aggiunto E il nuovo render E' meglio Sarebbe meglio Sì Sì Però diciamo Per il laboratorio Ecco Mi metterei a farlo Solamente nel momento In cui Ho finito tutto il resto Quindi voglio imparare una cosa Voglio provarla Voglio magari provarla In vista dell'esame Per chiedere se per caso Non funziona Come posso fare Eccetera Questo va benissimo Però non è quello Che le fa dare uno Allaborato agli uno Lo prende anche se Non ce l'ha messa Questa cosa L'esame ovviamente Deve essere Deve distinguere Un po' di più Si fa questa prova A casa Un progetto Quindi Il 99% Dei progetti consegnati Clicchi Provi Funzionano Perché Perché li avete provati A casa E sviluppati con calma Quindi Quello che differenzia Un po' Il progetto E come E' stato Implementato Tutto qua Come va messo Di statico Quando va a caricare La server Come ha fatto L'API Come ha fatto La root E queste cose qua No E quindi Diciamo Prima di tutto Far funzionare le cose E organizzarle bene Che siano ordinate E poi Diciamo Se uno proprio Vuole provare A fare cose Al massimo Fatte al meglio Possibile Ok Può cercare Di dare Questo feedback Adesso vi facciamo Vedere un esempio Poi magari potreste Quando arriviamo Un po' più In vicinanza Dell'esame Riproporci la domanda Io intanto Sento anche I colleghi Adesso non voglio dare Un punto L'opinione Per gli altri colleghi Perché poi magari Pensano diversamente Però insomma Diciamo che Sicuro non è fondamentale Per passare l'esame Ecco L'esame si passa Tranquillamente Con un meccanismo Che è carica Dal server Quando fate l'aggiornamento Quello Anzi Si passa anche Con un discreto voto Direi se tutto Reste ben fatto Discreto Buono Certo Se uno Punta il 30 lode Se ha fatto qualcosa Un po' bene Seguito per bene Le best practices Magari non proprio In tuttissimi casi Ma in buona parte Dei casi E così via Diciamo che In voglia di più A dare la valutazione Massima Ok Delete exam Quindi è meglio Ma senza Straffare Soprattutto all'inizio Delete exams Dobbiamo dire Che cosa Cancellare Ci viene passato Il course code Quindi course code Quindi questo Di nuovo Cancella sul server Giusto per Farvi vedere Come diceva Il vostro collega Diciamo che noi Siamo ottimisti E Se facciamo così No Visto che il vostro collega Ce l'ha proposto Dobbiamo però Metterlo sotto forma Di callback Da eseguire No Così Tanto non abbiamo Da ritornare nulla Dovrebbe funzionare Metto le grafe Solo per pulizia Ok Quindi questo Non verifica Se C'è stato Una reject O Della promise Oppure Una Come si chiama Una La La risolve Ecco La risolve Semplicemente Lo fa Quindi assume Che tutto vada bene Quindi Ecco Questo Questo Fatto così Ecco Non Non va Tanto bene No Mentre questo È solo Come diceva La vostra collega Vabbè Ci possiamo contentare Di fare questo Di per sé Come livello base Sì No Perché Perché Qualsiasi cosa Se è successo Io ricarico E se la roba sul server Non c'è Non c'è Se c'è Invece c'è Quindi Sono coerente Con il server Quello sopra No Questo lo provo Solo perché Il vostro collega Mi ha fatto la domanda Poi lo mettiamo Tutto a posto Diciamo Cercando di Mettere insieme Anche L'aggiornamento Verso L'utente Quindi far sapere Che cosa sta succedendo All'utente Quindi Lasciatemi solo appunto Far andare La delete Così ci cancelliamo Un po' di esami Quindi Ricarichiamo L'applicazione E quindi avrà Sti sette esami Perché li tira su Dalla database E li ho aggiunti Spero che adesso funzioni Ok Quindi avete visto C'è la delete E basta E non c'è la get No? Quindi un'altra delete Che ci mette un po' Perché io ho messo Quei ritardo sul server E poi aggiorno No? E spero che vada tutto bene Quindi non ho neanche Fatto la verifica Non ho fatto la get Quindi Vedete che non è che Ci va molto a far Comunicare L'applicazione Con il server Bisogna fare attenzione Che quando succedono Possono succedere I problemi Sia fatto tutto Correttamente Quindi La delete L'abbiamo implementata Allora Ecco Ragioniamo un attimo Adesso che abbiamo Diciamo le due funzioni Di base Così posso Cancellare Senza riempirmi Lo schermo di roba E dove è andata Nella database Come faccio A ricaricare L'informazione Io ho Questa UseEffect Che funziona All'avvio E di per sé Va bene Ma la UseEffect Nel momento in cui Metto un array Qui Funziona All'avvio E in più Potrebbe funzionare Anche a fronte Di qualche cosa Che io Cambio Come variabile Che metto qui Nelle dipendenze Esattamente Come abbiamo fatto Con l'update Noi abbiamo creato Uno stato ausiliario Che ci serve A ricaricare L'informazione Quando Quando Diciamo Abbiamo necessità Di Vogliamo ricaricarla Dal server No Che abbiamo necessità Nel senso Siamo Convinti di ricaricarla Dal server Perché abbiamo fatto Un'azione Che la cambiate Quindi vogliamo Verificare che tutto Sia a posto Sul server E intanto Come Seconda cosa Ci carica anche Le eventuali modifiche Fatte da altri Ok Allora Come faccio Dunque Allora Io farei Prima di tutto Un Una variabile Che mi consente Di andare a fare Quest'operazione Quindi Mi creo una variabile Come ho fatto L'update No Nell'esempio Delle slide Me la creo Così La chiamo Dirty Sporco No Forse è un po' più chiaro Ci abbiamo pensato Solo ieri sera Ma le slide Erano già fatte Forse è anche quella Di L'update Di prima Potevamo chiamarla Dirty Anziché update Perché Come dire Lo stato Corrente Dell'applicazione È Da ricaricare Dal server Quindi Questo è il significato Della variabile Dirty Che è lo stesso Significato Di quella Di update Di prima Della slide Ok Cosa faccio La metto Come dipendenza Della useEffect Che carica Gli esami Ok Va bene Quindi All'inizio All'inizio La metto True Va bene Poi ci pensiamo Allo stato iniziale Allo stato iniziale È l'ultima cosa A cui pensare Però È una boolean Non la lascio Con un undefined Perché se no Poi non ci capisco Più niente Comincio col true Se poi ho sbagliato Metterò false Ok Allora Quindi io so Che quando cambio La dirty Farò rigirare Il get All exams Che mi farà Una set Esame Che quindi Mi aggiorna La lista Degli esami Ok Bene Come facciamo A far funzionare La Le nostre due funzioni Per ora abbiamo Lavorato sulla delete E sulla add Facendo in modo Di scatenare Il caricamento Tramite la use effect No Così ci evitiamo Di scrivere Questo codice Fondamentalmente No Questo abbiamo detto Che non lo vogliamo Scusate Questo non lo vogliamo vedere Eh Ma questo Si potrebbe scrivere Ma Non ci piace tanto Eh Beh In realtà È molto facile Nel senso che Uno stato Cosa Cioè Posso Anzi Facciamo solo Delete Che è quello Che mi fa Più Ribrezzo In questa In questo momento Eh Diciamo Then Set Dirty Ah Spiccitto male Set Dirty True Ok Ah no Senza il punto virgola No Eh Ok Ok Sì Ah sì Mi aveva messo le graffe Ma non c'è Va bene Mettiamo le Le punte virgola Ok Eh Però Quindi Va bene Però sei partito col true Quindi No In realtà C'è ancora un pezzettino Che mi manca Nel senso che Dopo aver fatto la Get exams Io Bisogna che Faccio Faccio la Come si dice Get exams Faccio Che metto la Dirty false Come facevo nell'esempio delle slide No Se no Se no mi resta sempre true Non cambio il valore Non è che mi scatena L'esecuzione della callback No Quindi Dove lo metto Beh Posso fare Un Den No È una sync Questo è un esempio No Perché Perché ogni tanto uso La wait Ogni tanto la den Ma Qui è un po' Sta un po' a voi Perché In realtà Nel momento in cui funziona tutto bene Potrei fare quello che voglio Voglio Adesso Qui Non posso scrivere Wait Sennò devo metterci un'altra sync intorno Perché non posso darla direttamente alla use effect Allora scrivo den e faccio prima Ok Den Cosa faccio Set dirty False Ok Cioè Ah no Senza il punto di via Una volta Ah no Ecco una callback Mi raccomando Apriamo le graffe Ma che poi Intanto dobbiamo metterci del resto Quindi Set dirty false Ok Quindi questo Fa sì che Mi cambia la variabile Diventa false Mi viene rieseguita la use effect Farà di nuovo il secondo caricamento Come vedevamo prima Che non mi piace Però funziona già Quindi qui abbiamo fatto L'abbiamo messo sulla delete Quindi possiamo provarlo Quindi ricarichiamo la nostra La ricarico sempre perché Non si sa mai In realtà dovrebbe funzionare Però Ok Quindi io cancello Delete Get Get No? La doppia get E poi per fortuna Si ferma Ok Adesso vengo alle domande Per evitare questo problema Come avevamo visto prima C'era un if Semplicemente che evita di eseguirlo La seconda volta Quando è già false Quindi posso Sostanzialmente fare If Dunque era dirty No? Ok Altrimenti Niente Dunque Voglio solo di chiudere correttamente le graffe E poi succede un pasticcio Aggiorno solo Format Ok Dunque domande Non avremmo potuto mettere semplicemente La set 30 dentro la get exams Sì 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 Avrei potuto anche fare così Avrei potuto anche fare così Quindi all'inizio ci saranno due caricamenti No all'inizio c'è sempre solo un caricamento Perché? Perché Ah perché l'ha messo true Allora sì All'inizio ci saranno due caricamenti Vediamo Andiamo se hai ragione No C'è un solo caricamento No C'è un solo caricamento perché C'è un solo caricamento Dunque parte è true I use effect Viene eseguita comunque Viene eseguita comunque E Mi Mi mette il false Mi mette il false Non c'è il secondo caricamento Perché ho messo leaf Se tolgo leaf c'è il secondo caricamento Ok Evitando quindi quel punto dene Chiamato solo diet exam Come prima Ok con live ne fa solo uno Sì Aveva scritto la domanda prima Va bene grazie Però è importante riuscire a pensarci Se non capite mettete dei console log Non sono belli Rimuovetevi magari per l'esame Però Mettete dei console log E Dall'ordine di console log sulla console Riuscite a capire che cosa sta succedendo Ok Ok Sì è vero che avrei potuto tenere la cosa lì dentro Diciamo che l'ho messa fuori Perché avevo portato fuori la gate exams Posso anche metterla dentro Solo che devo metterci il dirty Cioè portare dentro tutto quanto Cioè portare dentro tutto quanto If dirty Set dirty For Eccetera Diciamo che se lo lascio Qui Forse viene più comodo Gestire l'errore Forse sì Vabbè però l'errore adesso non Non vogliamo gestircelo Ok Va bene abbiamo fatto funzionare col dirty La use effect E E quindi con la delete E facciamo funzionare anche l'altra La La Add No? Quindi anche qui facciamo la stessa cosa Ciò che facciamo in uno di per sé Aggiunta Cancellazione E Aggiornamento Possono funzionare tutti Nella stessa maniera No? Ok Adesso Proviamo a A fare A dare il feedback All'utente No? Come abbiamo fatto nell'esempio Qui l'abbiamo fatto in maniera molto grezza Abbiamo scritto temp No? Come potremmo fare qui? Io vi suggerirei questo modo Noi abbiamo una tabella Abbiamo una tabella Quando facciamo delle operazioni No? Ci comparirà poi il risultato No? Però noi Se avessimo modificato lo stato immediatamente Avremmo potuto farla comparire immediatamente No? Potremmo mettere provvisorio qui Mentre facciamo l'operazione Si Si può fare No? Come facevamo con la Con la Con la stringa qua Vi propongo questo modo Che è leggermente più carino Nel senso che Aggiungiamo una proprietà agli esami Che ci dice Se li dobbiamo visualizzare In qualche maniera particolare Quindi Facciamo così Andiamo sul codice Add Cominciamo dall'add Che è la più facile No? Quindi Diciamo che noi Aggiorniamo lo stato locale Però aggiorniamo lo stato locale Ricordandoci Che l'exam Che stiamo aggiornando È provvisorio Aggiungiamoci una proprietà Tanto exam è un oggetto Status Added Ok? Ci metto Added E non Temp Perché così Mi gestisco i colori Mi piace Che so far vedere L'add Non lo so In arancino In giallo Non so cosa è scritto nel codice La delete in rosso Eccetera Quindi Dopo cambio quello lì E la faccio vedere In rosso Come faccio A far funzionare Questo status? Beh Negli exam component Cioè dove c'era la tabella Voglio Voglio andare A Voglio andare A Visualizzare Diversamente Con i colori diversi Le righe Che hanno La proprietà Anzi Non la proprietà La Exame Sì Hanno su exam Il Una proprietà in più Quindi in realtà Non props Status Props exam Status Che ce l'ho aggiunta io Allora Facciamo così Facciamo un tiro Ok Sono tre casi Io faccio una normalissima variabile Che è una stringa Status class Added Sulla base di props Exame status Che è quello che ho impostato Un attimo fa Added Table success Sono classi Bootstrap Delete table danger Che è rossa Warning Mi sembra arancione Una verde Ok E poi E poi niente Lo aggiungo Nello stile Tr Ok Paste Ok Class Status class Anna properties Mi arriva Mi arriva da exam No Da props exam Cioè status Se c'è Bene Se no Se non c'è niente Non faccio niente Null Non mi darà alcuna influenza Facciamo la prova Dunque L'ho impostata su Added Quindi devo fare una prova di aggiunta Vediamo se funziona senza ricaricare Così facciamo prima Save Ahia No Non funzionato senza ricaricare E allora ho dimenticato Di scommentare qualcosa No Forse non ho Ah non ho salvato app Ok Va bene Giugiamo ancora uno Ecco Vedete che è un colore diverso Che poi sparisce Ok Ho dato un feedback all'utente Di cosa sta succedendo Ho fatto l'optimistic update Però Dando il feedback all'utente Il fatto che Occhio che quella cosa lì è provvisoria Potevate fare la scritta in grigio Non lo so Potevate fare quello che vi pare L'importante è che date un qualche feedback all'utente Diciamo sensato Il resto funziona come prima Post get La get scatenata Dalla set dirty Che ho fatto nella post Una volta che tutto Che ha finito E che quindi mi ha fatto caricare l'informazione Ok Quindi ho Come facevo sulle slide La update L'update mi serve a Caricare A far caricare l'informazione Nel frattempo io faccio l'aggiornamento Ma mi segno che è temporale Io non l'ho scritto qui direttamente Ma ho Aggiunto una proprietà su exam No Ok Se non andasse a buon fine Cosa succede? Succede che Quando ci sarà il caricamento Sparirà Quindi se la post Non è andata a buon fine E La get Non la troverai Me la faccio sparire Punto Ok Potete fare queste prove Mi raccomando Fatele In vista Dell'esame Io adesso come faccio? Devo andare a modificarmi il server Nel senso Devo andare a far fallire Quest'operazione Quindi Lo faccio una volta sola E poi Se no Non finiamo più Ma Dunque La post Che sarebbe L'aggiunta E Toh Commento la Wait Create exam Nel database Ok Save Mudo Faccio Ripartire Quindi Allora Ne aggiungo uno Stavolta Comparirà E poi Sparisce Vedete che è comparso Perché l'ho fatto io Lato stato Dell'applicazione E poi sparisce Era provvisorio E se non va Non va Ok Nel caso in cui usassimo Un oggetto Come sarebbe stato possibile Usare Aggiungere un campo Dirty E basare la UseEffect Su di esso Se aggiungessimo Un oggetto Stiamo aggiungendo Un oggetto No Cioè Noi stiamo Aggiungendo L'oggetto L'oggetto Che aggiungiamo È exam No Mi sfugge Qualcosa Noi abbiamo fatto Una variabile Separata È una variabile Di servizio Che è uno stato Che è solo Boolean True false Basta Qui Qui È meglio Come abbiamo detto Prima Non mettere oggetti Se mettiamo L'oggetto In riferimento All'oggetto Ci crea solo Dei problemi Dobbiamo mettere Cioè Lei Non so Avrebbe voluto Metterci Adesso Non lo so Sparo per dire così Exam Punto Status Non ci funzionava Bene Perché exam Io non voglio Ricaricare tutte le volte Che tocco Exam È una variabile Di servizio È un parametro Della È un parametro Dell'handler Ok Vabbè Intanto la lascio Non intendo Se al posto Della lista Ci fosse stato Un oggetto Al posto Della lista Ci fosse Ah no Ma qui Dice Dice Se Come è stato Tenevamo un oggetto E Devo vedere Dove Dove Ha senso Dove Ha senso Metterlo Nel senso Piuttosto Mi faccio Uno stato Addizionale Che scende Giù Nei componenti Di visualizzazione Che mi dicono Di Disegnare qualcosa Come provvisorio Ok Se non posso andare A modificare Quell'oggetto Però di per sé Non vedo Tutta questa difficoltà Nel senso Usiamo una property Che non esiste Se nessuno La usa Noi la possiamo impostare Vi ricordo che sugli oggetti Potete creare La property Dal nulla Questo è javascript Ha creato su un oggetto Ma sugli altri Non esiste Cioè Queste sono istanze Non sono classi Se non l'abbiamo definita Prima La definiamo In questo punto Questa inizia ad esistere In questo punto E' solo per questo oggetto E' esame Ok Quindi Dobbiamo trovare Una maniera Di organizzare Il codice Così che questa informazione Del provvisorio Sia passato Alla parte Di visualizzazione Tutto qui Come lo fa Come vuole Ok Devo rimettere A posto server Prima che mi dimentichi Se no Non riusciamo più A fare aggiunte Dove è andato L'editor Ok La delete No Dove è andata La La Era raggiunta La post Questo qua No Ai 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 Allora Vediamo un attimo La post Ah il create Sì La win Ok Se no poi Mi si incarta E non funziona più niente Va bene Vediamo di Avviarci Verso Una Conclusione Ragionevole Allora La delete Mettiamo a posto La delete La delete No Questo non c'entra niente Si è aperto il server Su n Schermi La delete Ecco Devo solo gestire Un po' meglio Diciamo L'aggiornamento Dello stato No Io Guardate Se no Non finiamo più Vediamo il codice Che vi trovate Quindi niente di particolare Ogni tanto bisogna Riorganizzare un attimo Il codice No Perché qui era fatto Con la filter Ci veniva comodo Perché tanto Non dovevamo aggiungere Questo campo Se vogliamo aggiungere Questo stato Ci conviene fare un giro Con la map Passare una callback Dove Decidiamo cosa ritornare No Quindi in realtà Ritorniamo la stessa cosa Aggiungiamo solo lo status Su quello che deve essere Cancellato Perché Perché lo lasciamo lì Per ora Questo scatena Render Viene fuori In rosso Adesso lo proviamo E Quindi Vedete Viene fuori in rosso E E poi se va tutto bene Sparisce Ok Bene Vediamo l'update E poi Le ultime due cose Che non sono ultime In ordine di importanza Però Vediamo di finire Il discorso Degli aggiornamenti Quindi L'update L'update Quindi a questo punto Avete imparato come si fa No Update In realtà Facciamo Paste Quindi Update No Abbiamo l'API Nel Con di update Quindi Put Application JSON Eccetera Con il parametro Dell'esame Con i nuovi valori E E Quindi facciamo lo stesso giochino Set 30 Per farlo ricaricare No Dobbiamo ancora aggiustare questo Questo lo aggiustiamo Semplicemente Eh Fatemi fare il copino In quello Così sono sicuro Che non combino Pasticci Eh Con uno status Updated Ok Quindi io faccio così Praticamente lo stesso codice Ci sono in più Status updated Ok Facciamo la prova Una volta che avete organizzato bene le cose Vedete quanto è facile mettere a posto tutto Cioè Una volta che ho organizzato come funziona C'è il dirty Si ricarica con lo use effect Eccetera Scrivere i metodi Una volta che avevamo i vecchi È quasi banale No Ok No Voglio Aggiornare Quindi Web application 1 Ho preso 30 Load Ecco Questo è giallo Carica dal server E torna E viene normale Perché ha avuto successo Se no Se no Di nuovo Andavo sul server Facevo la prova Non gli facevo fare L'operazione Non mi veniva fuori il 31 Spariva il giallo Restava Questa volta Ma tornava a 30 Ok Ok Allora Cosa dobbiamo ancora mettere a posto Sono due cose che vorrei segnalarvi Numero uno È Caricamento iniziale Noi facciamo il caricamento iniziale Dei dati Set courses Set exams Ok Quindi proviamo a ricaricarlo Vedete che ci mette un po' di tempo Vedete L'ho fatto apposta La get è lenta L'avevo messo il set In moto apposta È un po' brutto Che Ci compaia la tabella vuota Ma Questa applicazione funziona o non funziona Adesso qui c'è un secondo Quindi si fa in fretta Però Aspettaste 10 secondi Siete lì Nervosi Che cliccate per capire Cosa sta succedendo Forse non ho No Il video ce l'ho Ok Va bene Quindi Diamo un'indicazione al fatto che si sta caricando Come facciamo? Abbiamo visto negli esempi No? Ma qui non c'era Mettiamo insieme il pezzo Che avevamo visto prima Loading Loading No? Abbiamo uno stato apposta Per il loading Usiamo questo approccio qua Quindi Nuovo stato Ci sono un po' di stati Loading Va bene E E dove lo imporgo? Dunque Allora all'inizio è true Perché? Perché si apre Si crea app Il componente Quindi Chiaramente all'inizio Deve caricare Quindi qui Lo stato iniziale È giustamente true Non è che c'è tanto da pensare E poi E poi una volta che ho caricato tutto Posso Diciamo fare Loading false Dove lo vado a fare? Potrei andarlo a fare Qui No? Quando ho finito di caricare tutto Paste Loading false Caricato di esami Loading false Però devo poi usare Loading Loading dove lo uso Devo andarlo a usare Nella tabella Dove mostro la tabella Quindi c'è la root Questa è la root Di render Paste Faccio così La slash Quella da cui iniziamo Loading vero Allora Spun Please wait Due punti L'altro componente E dobbiamo solo chiudere La graffa Ok Dovrebbe essere a posto Tutto quanto Ok Quindi Facciamo di nuovo la prova Loading E poi arriva la mia tabella Quindi Ci sto a vedere Che effettivamente funziona A implementare Loading Non è così difficile Ci basta uno stato Boolean E capire Quando Quando lo dobbiamo Impostare a true E quando lo dobbiamo Impostare a false Ok Avremmo potuto usare Il dirty Per mettere un messaggio Qui in cima Attenzione Tabella provvisoria Non colorare le righe O colorare le righe E aggiungere anche un messaggio Sta a voi Decidere come Secondo voi Ha senso gestire la cosa Ok Quindi Se ci sono domande o dubbi Mi raccomando Scrivete Un'ultima cosa Che vorrei sistemare Quindi Abbiamo Una buona applicazione In questo momento Perché Parla col server Fa tutte le operazioni Fa questa Optimistic update Ma dando un feedback All'utente Ok Meglio di così Gestisce loading Nel senso che Finché non ha caricato i dati Ci dice qualcosa C'è solo più Un piccolo aspetto Da considerare Chi però Non è immediatamente Visibile Perché come avete visto L'applicazione Funzione Allora Qui abbiamo Due use effect La use effect Prima La prima Funziona solo Alla creazione Del componente App Perché? Perché la dipendenza È vuota Ed è giusto così Perché all'inizio Carichiamo i corsi E quelli non cambiano più Noi siamo dell'idea Che non dobbiamo Ricaricarli È vero che potremmo Ricaricare anche quelli Però Abbiamo Deciso Per qualche motivo Che non li ricarichiamo Non so E come Come tante applicazioni web Che usate Che Non so Se cambiano Cose fondamentali Vi dicono Beh per favore Chiudi Cioè Ricarica l'applicazione No Non va anche Per dire Cos'è Gmail Quando cambiate Un po' Di impostazione Eccetera Perché Perché fate prima A far ricaricare L'applicazione Perché sono cose Che magari Hanno un impatto Elevato Eccetera Vabbè Certe cose Possono avere Un senso Essere caricate Una sola volta Ok Va bene Anche perché Se cambiassero Nel frattempo Potrebbero creare Dei problemi Non indifferenti Però Questa è una valutazione A fare a livello Di applicazioni Quello che non mi piace Tanto ancora In questo codice È che La use effect Che carica Gli esami Mi fa Il Set Loading False Non appena Finisce E se io Nel frattempo Non avessi finito Di caricare I courses Guardate Facciamo Una prova Se non mi sbaglio Most pad Me l'ho aperto Di là Get courses Then Courses REST JSON Courses Set Dovrebbe funzionare Dovrebbe funzionare E' andata Perché Perché? Perché courses Ci ho messo Mi ha dato Un'altra Moni fa Ah scusate Ho fatto un errore Nel Era in una Then Dopo questi Errori Sono Che Infestate Set Courses Then Courses Facciamo No Courses Set In module Dovrebbe Mettere C Quindi Courses No Vabbè Con la then Viene più difficile Da Scrire Va bene Facciamo così Cost Cost Facciamo Sentitemi di far così No Ok Come abbiamo scritto di sotto Però Abbiamo passato Ah ecco Sì Vabbè Ecco Questo mi era sfuggito Sicuramente Va bene Catch Via E' solo Una prova Sporca Nel senso Cosa ho messo Non è troppo Set time out Sì Questo per vedere Ah Voglio lanciare il serve Siamo a buon punto Comunque 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 Del Carico Ok Sto attendendo No Ecco Cosa è successo? È successo che È successo che Il Il Corsus È arrivato Dopo L'exams Ok È arrivato Dopo L'exams E questo Ha incriccato Un po' di logica Nella mia applicazione Ora Non è che sia così Difficile Sistemare questa logica Perché Vabbè Questo è perché Assumeva che ci fosse un elemento Nell'array Posso mettere un if E si risolve il problema Però dal punto di vista Della mia applicazione No Io posso anche Semplicemente ragionare In termini di Ok Non Diciamo Evito Che Il Di andare a fare Il set degli exam Ok Quindi Il No Il set degli exam Lo fa Evito di Cioè Carico Gli exam Anzi scusate Carico gli exam Quindi evito di andare a fare La chiamata degli exam Di caricare gli exam Se Non ho i Corsus Come faccio? Mi verrebbe da dire Corsus No? Corsus Che è lo stato Mi raccomando Abbiamo detto No Array No Oggetti Questo è proprio il classico caso Dove il suggerimento che dicevamo Se ha senso Si può usare Corsus Punto lente Un numero E questo funziona Se cambia il numero E cambierà Perché se è zero All'inizio Perché ho messo l'array vuoto Nella useState E Vado a Caricare qualcosa E quindi mettoci qualcosa dentro Allora ha senso far partire la exam Ok Solo che Solo che All'avvio Occhio che all'avvio Viene eseguito Viene eseguita Anche Se Indipendentemente Da tutti i valori Che ho qui Quindi Get exams La chiamo solo Secoursus Length Ha un valore diverso da zero Se volete ci mettete diverso da zero Ma se no Insomma Javascript È come il C No? Quindi facciamo la prova In realtà me la sta già facendo Adesso Forse C'era qualcosa che mi sono scordato Cosa Json map Non è una function Cosa è questa roba che esce fuori Questa è la linea E questo è il finale Ovviamente Get courses Cosa ho cambiato? Ho fatto qualche pasticcio nel codice Se qualcuno ha dei suggerimenti È un momento buono Così poi terminiamo Allora Comunque l'idea è È che nel momento in cui Abbiamo delle dipendenze Consideriamole Quando facciamo eseguire il codice Delle callback di useEffect Corsus length Forse Corsus Guardiamo l'errore Allora Unhandled Rejection Cioè non mi è arrivato Mi sa che allora non l'aveva provato Chiesi Questa soluzione Cioè Qualcuno è andato a farsi Cioè Non mi è andato a farsi Non mi è andato a farsi Ah ecco Ho sbagliato qualcosa sul server Quindi Set amount Await Ok Se no Non aspetto Che l'operazione su database Sia Terminata E ovviamente Ah wait Uff Va messo dentro Una sync Bisogna avere un po' di pazienza Programmando Ma penso che al vostro Al quarto anno di ingegneria Lo sappiate Vediamo Ok E questa volta Funziona E funziona come deve Corsus Vediamo la risposta E c'è effettivamente il contenuto Ok Scusate per Una cosa di prima Ok Comunque Con il debug del browser Vedete che Tante cose Riusciamo anche A risolvere Oppure Anche con rest client Insomma Con questi meccanismi Provate le API L'ultima cosa che avete toccato Provate a vedere Se c'è qualcosa che non va Provatela E magari avete aggiunto Quelqu'è non andava Ok Io direi che abbiamo Sostanzialmente Risolto Tutti i nostri problemi Della Dell'esempio Che volevamo vedere E quindi Se non avete dubbio Domande Sostanzialmente C'è da provare A implementare Tutto quanto Nel laboratorio Il laboratorio È sostanzialmente Da continuare Quello che stavate Già facendo Ora Come dicevo Prima Non è il caso Di partire subito Implementando Il dirty L'optimistic update Eccetera Partite implementando Qualcosa di semplice Come abbiamo fatto noi Fate funzionare Il collegamento Client server Non buttate via L'aggiornamento Dello stato locale Provate a mettere Il dirty Se volete E aggiungere Quindi una proprietà Non so Sui task Da qualche parte Che vi consenta Di visualizzare qualcosa Mentre state facendo La modifica E attendete La risposta Del server E poi se volete Aggiungete Loading Quindi piano piano Riuscite a Fare tutto quanto Anche sul vostro esempio Così Provate Per quanto vostro Ok Direi che Vi metto online Questo E appunto Abbiamo provato insieme Quindi non dovrebbero esserci Il problema L'ho già fatto sul git Dovrebbero stare a fare il commit Quindi più rapido L'altra volta E E quindi niente Ci vediamo lunedì prossimo E per Per il laboratorio Se non ci sono dubbi O domande Direi che possiamo Terminare Ok Non vedo dubbi Ne domande Quindi Grazie per l'attenzione Ci vediamo Lunedì E ovviamente C'è sempre slack In caso di problemi E difficoltà Arrivederci Grazie 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 Grazie